Con la solenne celebrazione del martirio di San Giovanni Battista si concludono in modo simbolico i festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Anche quest'anno, per le restrizioni legate alla pandemia e alle altre vicissitudini, i festeggiamenti patronali e la perigrinazio del Santo Patrono per le strade della città non si sono svolti. Per la celebrazione del 24 giugno la statua del Patrono è stata esposta all'esterno della collegiata durante la messa, a cui è seguita la lunga esposizione estiva sull'altare centrale della chiesa per dare la possibilità ai fedeli di pregare e venerare il Santo Protettore. Ogni anno, il 29 agosto, come da tradizione, la statua ritornerà nella sua teca posta sulla navata destra della collegiata, fino alle successive cerimonie di intronizzazione e vestizione del prossimo anno, in occasione della propabile uscita per la lunga perigrinazio legata alla festa patronale. In tempi ante pandemia la decorazione coincideva con la processione della statua patronale di San Giovanni, portata dalla collegiata Battistina alla villa comunale e viceversa per la celebrazione della messa. Dopo il rito religioso, la breve conclusiva perigrinazio accompagnava il simulacro del Patrono San Giovanni da via Murelle lungo la centrale via Zurlo, via da Procida e via Mendola per terminare il suo cammino in chiesa, dove la statua simbolicamente è comunque riposta nella teca a lui dedicata. La decollazione, come gli altri riti complementari, fanno ormai parte pregante della tradizione legati alla devozione del Patrono San Giovanni. Una celebrazione dei riti patronali ravvivata in maniera determinante nell'ultimo ventennio e che hanno riavvicinato ai fasti di questa antica festa popolare e religiosa ad inizio d'estate intere generazioni pronte a venerare il loro patrono con forti emozioni e una rinnovata fede.